I due incorvassi stanno trascorrendo la loro vacanza da innamorati a Porto Empodecle in Sicilia, una vera vacanza d'amore. I due sono ormai nella città marinara da qualche settimana a beneficiare e godere delle bellissime spiagge e del buon cibo. Inoltre, tanto relax e divertimento la sera. Tavassi, come fa spesso, prende in giro la sua Micole perché sembra che la ragazza è molto conosciuta. Infatti, tanti la fermano, ma quasi tutti sono parenti. Infatti, il ragazzo dice, passeggiare con Micole è un piacere. Insomma, sono una coppia molto unita e si vede che tra loro c'è feeling, tanto che Edoardo è ospite proprio a casa della famiglia di Micole. È una coppia che giorno dopo giorno sta costruendo qualcosa di bello e di solido contro tutti gli scettici che invece pensavano il contrario.